Siamo a giovedì 15 settembre, buongiorno a tutti, ben ritrovati, carissimi telespettatori di Fano TV sul canale 17 al mattino alle 7.30, in diretta c'è la rassegna stampa, occhio ai giornali. E partiamo subito con la lettura del Santo del Giorno. Oggi la Chiesa Cattolica ricorda la Beata Vergine Maria addolorata, è un evento, una festa che riguarda, che è del Medioevo, quindi siamo molto in là nel tempo. Il sole è sorto alle 6.47, tramonterà a 19.19. Vediamo il tempo per oggi. Oggi avremo un cielo parzialmente nuvoloso, con addensamenti più consistenti previsti a ridosso dei rilievi. Le precipitazioni saranno sparse nelle zone interne, ma non si escludono brevi e isolati fenomeni anche nelle altre zone. Temperature lieve diminuzione. Per la giornata di domani il tempo cambia notevolmente, radicalmente. Vedete, venerdì 16, cielo nuvoloso con schiarite solo nella serata. Avremo precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio temporale. Non si escludono fenomeni anche di forte intensità, in particolare nelle zone interne. Probabile attenuazione dei fenomeni, come dicevo, verso sera. Le temperature in diminuzione. Sabato, 17 settembre. Cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, con aumento della copertura il pomeriggio. Possibilità di precipitazioni sparse più probabili nella seconda parte della giornata. e le temperature sono senza variazione di rilievo. Ancora tempo instabile poi sulle Marche, almeno fino all'inizio della prossima settimana. Questo dunque è il tempo che ci aspetta nei prossimi giorni. Cominciamo adesso a leggere velocemente i giornali. La pagina di Fano del Corriere Adriatico. Quattro palazzine in cambio per acquisire il teatro romano. Il comune di Fano cede l'area edificabile di Via del Lavoro. Affidato l'incarico per valutare la congruità della permuta con la ditta la Filanda. Accordo in vista dopo l'impasse di Aguzzi sull'area di Bellocchi e c'è un piano di Marchegiani. Questa è la pagina di Fano del Corriere. L'altra pagina invece è sulla spiaggia. L'erosione arriva mezzo milione. Arrivano i soldi per fronteggiare questo problema annoso per il litorale fanese. Arriva comunque mezzo milione. La regione aiuta quattro comuni. I fondi saranno per Fano, Mondolfo, Pesero e Gabiccio Mare. Ci sono progetti co-fidenziati. Poi l'annuncio è stato dato da Minardi che parla di opere fondamentali perché salvaguardano ambiente ed economia. Urla, insulti e clacson. Stiamo parlando di una giornata tipo dell'automobilista fanese che si trova a viaggiare, passare, transitare per alcuni nodi che sono un po' spesso caotici. Il Ponte Storto, per esempio. Tappo del traffico nell'ora di punta per il lavoro in Via Roma. Non c'è neanche un vigile a regolare il flusso. Ora si spera nell'interquartieri che dovrebbe essere aperta tra qualche settimana e dunque potrebbe far defluire con più velocità il traffico che spesso in ora di punta è congestionato. E questo è il punto più nevralgico. Ponte Storto è asfittico. Ma senza asfaltature la situazione più o meno è simile. Quindi non è solo questione di lavori. Quindi pedoni indisciplinati, gravi rischi alla liscia, marciapiede sbarrato per i lavori, i pedoni passano sulla strada e quindi creano pericoli sia per se stessi ma anche per gli automobilisti. Fano, presa come esempio, invece per quanto riguarda la città dei bambini, guardate la foto che riguarda il sindaco, il sindaco di Fano Massimo Serri, durante l'intervento di ieri alla fiera di Verona. Dicevo la città dei bambini, il sindaco invitato a relazionare al Cosmobike Mobility. Serri dice a Verona la nostra esperienza ha suscitato interesse, ritroviamo un ruolo. Presente anche una rappresentanza di forbici, è la strada giusta, non ci si fermi, dicono. In Curia nel parco, ora non viene più nessuno. L'amarezza del volontario multato, lunedì eseguita una manutenzione parziale, qui nella foto Valerio Biagioli, quando prese la multa perché aveva potato degli alberi, dei tigli. Tutti pronti a sudare e scattare, siamo sulla pagina di Fano Sport, arriva la Corrifano, i nastri di partenza, sabato l'attesa competizione, esordio per la camminata non competitiva. E poi dalla Valle del Cesano, schianto mortale, oggi l'addio a Codo, questo era il soprannome di Marco Codolan, l'amico indagato per omicidio stradale, la città di Pergola piange, la vittima diciottenne, alle 16 il funerale nella chiesa del cimitero. Il ragazzo era sul sedile posteriore, ieri è stata eseguita l'ispezione sulla salma, ma non l'autopsia, come invece era stato detto in precedenza. Tutta la compagnia di questo giovane diciottenne è sotto shock. E questa è la pagina della Valle del Cesano. Trivellazioni, torna l'allarme, il Ministero non ha archiviato. L'istanza della società McOil risulta nella fase di valutazione ambientale. Questa è la notizia da Monteporzio. Alla fine di novembre l'assessore regionale Sciapichetti ne aveva comunicato il riggetto. E adesso Senigallia. Senigallia con la cronaca, la fuga del pirata dalla Caritas. La famiglia del romeno scappato dopo l'incidente di Brugnetto. Aveva abbandonato l'alloggio, cena sul tavolo e televisione accesa. Poi il giallo della BMW a tutta velocità prima dello scontro. Non si esclude nemmeno l'ipotesi di un sequestro organizzato da due persone. Dunque un'intera famiglia svanita nel nulla a Brugnetto e la procura indaga. Si tratta del proprietario della BMW sprovvista di assicurazione che lunedì sera ha causato un incidente sulla Corinaldese per poi scappare. Ed è sparito nel nulla insieme alla moglie e alle due figlie. Questa è la storia raccontata sulla pagina di Senigallia del Corriere Adriatico. Da Fossombrone invece. Fossombrone teme un'altra San Nicola, la Fiera di Pesaro. Sabato e domenica infatti a Fossombrone torna la Fiera di San Matteo. Il rischio è l'invasione degli abusivi. Il sindaco Bonci chiede aiuto al prefetto che convoca il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza. Ricorderete a Pesaro c'è stato poi tra l'altro anche un episodio violento nei confronti di un vigile, di un poliziotto della Municipale aggredito da un 22enne straniero venditore abusivo. L'anno scorso erano arrivati oltre 300 venditori irregolari. Il Comune di Pesaro invece è in via personale tra i terremotati. I dipendenti saranno considerati volontari senza compensi in più. La foto è dell'assessore delle noci. Andiamo adesso sul resto del Carlino. La pagina principale è di questa casa che non c'è più. Il Comune ha tirato dritto, il Comune di Pesaro, e ha abbattuto l'edificio del Miralfiore. Ci sono proteste e polemiche anche perché qualcuno sostiene che è una casa che sta lì da sempre e quindi il Comune di Pesaro abbia commesso un abuso. senza ascoltare in sostanza la soprintendenza che avrebbe dovuto dire o dare comunque il suo parere. Con il suo bazar della droga invece era l'alternativa al metadone. quest'uomo che è stato fermato, questo spacciatore di fronte al CERT, forniva eroina, cocaina e hashish. Questa è la prima pagina del resto del Carlino. Quella di Fano invece si occupa dei problemi del pronto soccorso. Un pronto soccorso che è stato preso d'assalto con 4.000 pazienti in più durante l'estate. In 10.700 sono transitati nel reparto diretto da Giancarlo Titolo. Il numero crescente di adolescenti che arrivano all'ospedale in coma etilico è il dato allarmante su cui il responsabile del pronto soccorso si è soffermato. Difesa della costa e ripascimento delle spiagge. Ecco, 200.000 euro stanziati dalla Regione per il litorale fanese. L'annuncio dato da Renato Claudio Minardi, vicepresidente dell'Assemblea Legislativa delle Marche. Oggi l'addio al 18enne morto. La Procura ha evitato l'autopsia. Considerate le cause del decesso. Alle 16 il funerale di Marco, vittima dell'incidente stradale. Tra l'altro è un incidente stradale che si è verificato intorno alle 22 dell'altra sera. con Marco c'erano anche altri ragazzi, i suoi compagni. Alcuni erano maggiorenni, due erano minorenni. Un incidente che è avvenuto a Sassoferrato. Purtroppo quando la Ford Fiesta ha improvvisamente frenato si è infranta sul guardrail. E proprio le ramide del guardrail hanno trafitto il corpo di questo povero ragazzo di origini romene. Nell'impatto sono rimasti feriti anche due minorenni che sono ricoverati all'ospedale di Fabriano. Mentre non hanno riportato ferite gli altri due. La casa colonica dicevamo che non c'è più. La casa è stata buttata giù senza aspettare la soprintendenza. Italia Nostra accusa il comune di Pesaro di aver commesso un abuso. Per Federica Tesini l'edificio rurale era soggetto a vincolo e non poteva essere abbattuto. Stiamo parlando appunto di questo edificio, di questa casa colonica che è stata costruita nel 1872. Quindi era davvero lì da tantissimo tempo. E quindi si discute di questo a Pesaro sulla pagina del Carlino. E poi il primo giorno di scuola, oggi per tanti bambini soprattutto. Gli istituti comprensivi iniziano oggi. Quindi insomma facciamo un saluto e chiaramente un augurio grande grande a tutti i bambini che oggi iniziano la scuola. Sia quelli che iniziano per la prima volta e che arrivano dall'asilo. Quelli che invece già sono avanti ma comunque sono sempre ancora piccoli con le loro mega cartelle. Ci fermiamo qua. Grazie per aver seguito la nostra rassegna stampa. Stasera alle 20.30 ci ritroveremo, se lo vorrete, per il telegiornale. E vi diremo che cosa nel frattempo sarà successo nella nostra città e qua attorno. Grazie e buona giornata. Grazie.